13. Rabbia Come si possono superare le limitazioni? Commento Mettendole continuamente in discussione Io sono una persona incline alla rabbia? Bene, io metto continuamente la mia rabbia sotto il fuoco fisso della mia attenzione e a poco a poco sradico la rabbia e le faccio perdere forza In quel momento ho aggiunto un importante scatto in avanti alla mia evoluzione